Spesso nel corso della storia le capitali hanno avuto destini opposti. Una storia che ci aiuta ad approfondire il presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. Spesso le città capitali sono le città più importanti di uno stato, come il caso di Parigi per la Francia o di Roma per l'Antico Impero Romano. Ma non è sempre così. Per esempio Washington non è la città più importante degli Stati Uniti d'America. E in Italia il problema della capitale non fu facile da risolvere per tanti motivi. Al momento dell'unità la capitale naturalmente era la Torino dei Savoia, ma presto la capitale dovette essere spostata a Firenze guardando naturalmente a Roma. E qui si creò un problema, perché la capitale culturale d'Italia era senz'altro più Firenze che Roma. Per tutto quello che veniva da Firenze, che era avvenuto nell'arte, nel campo della cultura, del rinascimento e dell'umanesimo, ma soprattutto della lingua italiana, perché la lingua italiana veniva proprio dalla città di Firenze.